Gennaro Scognamiglio nel giro di 20 giorni è un po' cambiata l'aria, c'era un momento di tensione dopo la partita con lo Spezia, poi sono arrivate queste tre vittorie in quattro partite. Voglio tornare a quell'episodio, a quel post Spezia, c'è stato quell'incontro, quel chiarimento, non so come definirlo, alla ripresa degli allenamenti. Quanto ha inciso quel momento secondo te? Sicuramente quei momenti aiutano a far crescere i ragazzi giovani che ci sono in gruppo e aiuta un po' tutti perché dal primo giorno che siamo partiti dal ritiro forse lì non ci ha visto nessuno ma ci siamo sempre riuniti per parlare sia i più grandi sia i più piccoli perché secondo me quando ci sono delle cose da affrontare, un campionato importante, delle situazioni che si creano durante l'annata è giusto parlarsi e guardarsi negli occhi. Il mister dall'inizio è sempre stato chiaro che quando c'era da parlare ci siamo sempre riuniti e forse è stata una cosa importante perché poi è sempre stato così, quando ci siamo riuniti ci siamo sempre detti quello che pensavamo sia noi che il mister e infatti secondo me quello ci ha aiutato e adesso ci godiamo questo momento che è dove la squadra sembra aver cambiato atteggiamento, ha aggiustato alcune cose e le tre vittorie in queste quattro partite comunque ci hanno aiutato anche a fare un bel bazzo in avanti in classifica. E con quel confronto ha aiutato a cambiare atteggiamento però poi c'è stato anche un correttivo di natura tattica, anche quello ha inciso? Quelle sono cose che il mister con il suo staff valuta secondo me, sicuramente non sta a noi decidere come giocare, è una cosa che ha deciso il mister insieme al suo staff e ha fatto solo i complimenti, noi dobbiamo fare i giocatori e cercare di dare il massimo in campo, sicuramente a volte capitano delle situazioni che durante la settimana magari non provi e se tu sei bravo e preparato in campo riesci a sopperire alle difficoltà, quindi va bene il cambio di modulo ma l'atteggiamento è quello che conta e il giocatore quando va in campo che si deve adeguare subito alla situazione. Cozzauri ha rispolverato la coppia che ha chiuso lo scorso anno al centro della difesa, Bettella-Scognamiglio, hai ritrovato un'intesa che non si era persa con Bettella? Davide è un giocatore forte, sicuramente giocare con lui è facile, ma anche gli altri che fanno parte della Rosa, sia Ugo, non sta a me parlare di Ugo perché è un giocatore importantissimo, ma anche Mirko è un giocatore importante per questa categoria che può dare una mano sicuramente, quindi chi gioca gioca, è facile per tutti perché questa è una squadra forte e tutti i giocatori che stanno qua possono giocare alla grande, quindi gioca uno, gioca l'altro, l'importante è il contributo che si dà per il pescata e per la maglia che indossiamo, perché l'obiettivo è quello.